i soldi possono perdere valore l'oro invece avrà sempre valore ebbene forse questo video per molti di voi iscritti ovviamente mi rivolgo sarà un video diverso da quelli che siete abituati a vedere in quanto tratto in questo canale video che hanno a che fare con la realtà umana indago l'essere umano indago i misteri più grandi che ci sono in questo universo quindi la morte la vita gli animali la religione la scienza la tecnologia anche se solo in minima parte e oggi però ho intenzione di parlare di questo argomento perché in qualche maniera ha a che fare con l'essere umano perché siamo voi o non voi attaccati al denaro ai soldi perché se io non ho i soldi se io non ho banconote appresso non posso fare non posso andare da nessuna parte quindi siamo è inutile negarlo dipendenti dal denaro dal dio denaro dalle banconote dalle monete e quindi dico che i soldi come detto già in un altro mio video possono perdere effettivamente valore perché sono banconote perché sono monete non abbiamo nulla in mano alla fin fine ma abbiamo dei pezzi di carta che diamo a chi che sia per far sì di ricevere un bene o più beni di tipo materiale io do questo pezzo di carta all'amico al conoscente alla collega al cugino alla cugina al barista al commesso alla commessa al cassiero alla cassiera e poi ricevo il bene materiale ma cosa ho in mano di concreto punto di domanda un bel niente un bel nulla invece è importante invece è fondamentale rendersi conto che loro invece non perderà mai valore che cosa è loro è innanzitutto un bene di tipo prezioso ovviamente che può trovarsi in giacimenti minerari e che grazie ad esso noi possiamo avere i soldi in cambio ma non perderà mai valore è un bene di rifugio che significa bene di rifugio significa che nel caso in cui spero mai ma se un giorno ci dovesse essere una crisi economica in italia oppure in qualsiasi altra nazione del mondo del pianeta terra e ci sarà una crisi quindi fortissima della madonna tremenda noi possiamo esseri umani italiani oppure di altre nazioni del mondo affidarci tranquillamente e serenamente a loro il bene di rifugio per eccellenza perché grazie a loro che non perderà mai valore noi siamo come si vuol dire con i glutei coperti con le chiappe coperte non abbiamo problemi o difficoltà di sorta e quindi dico senza falsa retorica che i soldi ripeto le banconote le monete la pecunia possono perdere valore quindi se tu oggi ha un conto in banca dio ti benedica se gioisci in modo felice ma se un giorno pu da caso ci fosse una grandissima crisi economica il bar del denaro perdesse per l'appunto in maniera tremenda in maniera totale per l'appunto ripeto il suo valore allora lì secondo me dovresti iniziare a preoccuparti secondo la mia opinione personale ma finché ci sarà l'oro che diciamo così viene considerato come un bene primario di eccellenza di valore immenso tale assoluto ti dico investi sull'oro questo è un consiglio che ti do se hai la possibilità investi sull'oro destina un 300 un 400 euro per esempio ad acquistare delle monete in oro oppure dei ringotti d'oro che poi eventualmente potrebbero esserti utili quando magari arriveremo in una situazione di pura emergenza spero mai e mi auguro che ciò non accada mai però nella vita io dico sempre una frase ed è mai dire mai mai dire mai una frase che penso hai ascoltato più e più volte nel tuo nucleo familiare o anche al di fuori del nucleo familiare ma in casa tua e che dimostra effettivamente che c'è bisogno di fare grande attenzione perché ritrovarsi come si suol dire con un palmo di mano oppure con un pugno di mosche nelle mani è davvero molto semplice è davvero molto facile quindi ripeto fai attenzione perché l'oro è l'oggetto che non perderà mai valore siamo in tempi di carestia non ci sono più soldi ebbene un lingotto d'oro una moneta d'oro un oggetto d'oro ha un valore pazzesco basta vedere anche quanti comproro sono fioriti nelle nostre città a Roma a Napoli a Torino a Bari a Verona a Vicenza i comproro sono davvero in ogni parte e tu pensa che se tu dai per esempio una catena d'oro che è lavorata quindi non ha un valore molto elevato a un comproro tu addirittura potresti eventualmente ricavare da quella catena d'oro 300 500 600 euro dipende chiaramente da quanto pesa dal suo peso specifico quindi ti ripeto fai attenzione perché investire nell'oro oggi potrebbe essere una alternativa valida per far sì per fare in modo che il tuo iter biogrogico in questo pianeta chiamato la terra potrebbe risultare bello buono e preciso per la tua esistenza personale detto ciò ti ringrazio per l'ascolto infinitamente per la visione iscriviti mi raccomando a questo canale di youtube perché sono convinto al 100% che giocherà questo canale a te perché io parlo della vita dell'essere umano dei soldi della religione della filosofia di qualcosa di scientifico ma è un argomento quello che vengo a trattare sempre meditatamente riflettuto grazie scusa il gioco di parole scusa le eventuali imprecisioni iscriviti e al prossimo video dare andro smelli di romano grazie a tutti